MG, storico marchio inglese, ora diventato di proprietà cinese, si presenta nel mercato europeo con un nuovo SUV zero emissioni. Parliamo di Marvel R, un SUV elettrico con un'autonomia fino a 400 chilometri ed un prezzo d'attacco che va a lanciare in quanto di sfida al mercato generalista. A seconda della versione a due o quattro ruote motrici, a spingere la massa di questo segmento C, ci pensano rispettivamente due o tre motori elettrici, in grado di regalare prestazioni tutt'altro che scontate. Con una potenza di 180 o 288 CV e soprattutto con una coppia che arriva fino a 665 Nm, spostare le quasi due tonnellate di Marvel R è un gioco da ragazzi, sorprendendo con accelerazioni davvero sportive. Con meno di 5 secondi nello scatto fino a 100 orari e l'attrazione integrale ci si rende subito conto di non essere su un semplice SUV. L'abitabilità è garantita dal passo abbondante e permette tanto spazio sia per la fila anteriore che posteriore. Marvel R rappresenta quindi la proposta per conquistare il mercato europeo grazie ad una propulsione ad elettroni ed uno stile contemporaneo che guarda avanti.